Buonasera dal TG6 in apertura il caso dell'attentato incendiario al presidente del Pescara Calcio Sebastiani. A un mese di distanza sono tre le persone indagate a piede libero per incendio colposo nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato incendiario. Questa mattina gli agenti della Digos hanno perquisito le abitazioni di tre giovani. Il servizio di Andrea Costantini. Svolta nelle indagini sull'atto intimidatorio di cui è stato vittima il presidente del Pescara Daniele Sebastiani lo scorso 7 febbraio. Gli agenti della Digos della questora di Pescara coordinati dal vicequestore aggiunto Leila Di Giulio hanno infatti effettuato questa mattina all'alba tre perquisizioni domiciliari a carico di tre giovani indagati a piede libero per il reato di incendio doloso. Si tratta di due giovani appartenenti all'area del tifo non organizzato del Pescara e di un terzo giovane che in passato era stato coinvolto in una inchiesta su episodi legati all'estrema destra. Le perquisizioni sono state portate a termine in tre domicili di Pescara, Monte Silvano e in un paese dell'area vestina sempre nel Pescarese. I poliziotti hanno sequestrato capi di abbigliamento che sarebbero stati riconosciuti dalle immagini delle telecamere. I tre erano stati già individuati nell'imminenza del fatto avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio quando è stato dato fuoco al SUV di Sebastiani. Le fiamme si sono poi estese anche ad una seconda macchina, una Smart sempre di proprietà del presidente del Pescara, incendio che poteva avere conseguenze ben più gravi visto che nelle vicinanze scorreva la condotta del gas e le fiamme avrebbero potuto originare un'esplosione di tutto il palazzo dell'abitazione di Sebastiani lungo la riviera Nord all'angolo con Via Toti. L'attentato era arrivato in un momento particolarmente delicato all'indomani della pesantissima sconfitta interna del Pescara contro la Lazio seguita dalla contestazione dei tifosi e dalle dichiarazioni rilasciate da Sebastiani che si diceva stufo dei continui attacchi personali e pronto anche a lasciare la guida del sodalizio biancazzurro a fine stagione. Intanto le indagini proseguono a ritmo serrato per risalire agli altri due giovani che hanno partecipato al blitz di un mese fa. Le indagini sul rogo ai danni del presidente del Pescara sono coordinate dal PM. Mirvana Di Serio. Prima udienza davanti al tribunale collegiale di Pescara dal processo a carico di Don Vito Cantò, il parroco di 44 anni accusato di abusi sessuali sul ragazzo di 15 anni ai tempi in cui guidava la parrocchia di San Camillo dell'Ellis a Villa Raspa di Spoltore. Il sacerdote era stato rinviato a giudizio dal GUP Gianluca Sarandrea e oggi il collegio presieduto dal giudice Maria Michela di fine ha aggiornato l'udienza al prossimo 8 giugno in attesa di conoscere la decisione della Cassazione prevista per il 10 aprile sulla questione del nebis in idem sollevata dall'avvocato del parroco Giuliano Milia. La difesa sostiene in sostanza che poiché Don Vito Cantò è già stato condannato dal tribunale ecclesiastico per la stessa vicenda e sta già scontando la pena non può essere giudicato una seconda volta da un tribunale penale. Vincenzo Di Girolamo, legale della famiglia del giovane al centro degli abusi, ha presentato una contromemoria chiedendo invece che il processo penale vada avanti. Alla Cassazione spetterà il compito di assumere una decisione in merito. E questa mattina i vertici dell'Enac, della SAG e della Presidenza della Regione Abruzzo hanno presentato la conclusione dei lavori effettuati all'aeroporto internazionale d'Abruzzo sulla pista dello scala aeroportuale e anche quelli in programma all'ingresso e all'uscita dei passeggeri. Il servizio di Paolo Renzetti. Voglio sottolineare che questa breve cerimonia è volta a inaugurare una parte di segno di investimenti di ben 33 milioni che qualificherà a compimento questo aeroporto come uno dei dei migliori, più moderni, attrezzati aeroporti del nostro paese, naturalmente nella fascia di mercato di riferimento che è quello degli aeroporti regionali. Poco fa è stato anche sottolineato il miglioramento dei conti della SAG per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo. Sì, voglio richiamare a tutta l'attenzione e invitando anche tutto l'opinione pubblica e anche gli addetti ai lavori a consultare il nostro sito, a consultare i documenti ufficiali. Per esempio il bilancio 2015 già dimostrava che noi avevamo ridotto di ben 2 milioni e 200 mila euro i costi su un totale di poco, intorno agli 8-9 milioni. Sfido qualunque manager di grande elevatura a livello internazionale aver saputo fare attrettanto in soli 10 mesi di gestione. È evidente che la razionalizzazione dell'attività gestionale e il concreto e non a trascurabile supporto da parte dell'azionista di controllo hanno consentito di traguardare questi risultati così significativi. L'aeroporto d'Abruzzo resta l'infrastruttura più importante della regione e la presenza di tanti amministratori delle varie province lo sta a testimoniare? Assolutamente sì e questo è anche un bel esempio di coesione della nostra comunità regionale è un'emplematica testimonianza del saper fare sistema e dunque occorre che si tesaurizzi anche per il significato che assume per altre anche possibili ambizioni della nostra regione questa valenza, cioè fare sistema e individuare per ciascuna emergenza significativa regionale ciò che può essere e dare come valore giunto al benessere dell'intera comunità regionale. Io devo riconoscere una bravura di gestione in capo all'attuale Consiglio d'amministrazione che è stata rilevata anche da ENAC che è l'autorità di vigilanza ma ci sono i numeri che parlano il successo anche con Ryanair dal punto di vista del superamento della norma, i lavori che si sono fatti, quelli che si faranno, la conquista dei fondi del masterplan che faranno in modo che l'aeroporto d'Abruzzo diventi una vera infrastruttura di accesso al cielo per superare le grandi lontananze. Io mi complimento con tutti quelli che hanno garantito questa dovizia di governo quotidiano. Potenziare l'interconnessione dei trasporti in Abruzzo, cercare di migliorare i tempi di spostamento e soprattutto migliorare anche la qualità dell'ambiente. A stringere un accordo sono Confcommercio Pescara e il FAI Abruzzo. Vediamo. Confcommercio Pescara e FAI Abruzzo unite per porre l'attenzione sulla centralità del settore dei trasporti nell'intera filiera della distribuzione delle merci e delle persone e la loro interconnessione. Un accordo finalizzato a chiedere più interventi per ottimizzare le diverse modalità, ridurre i tempi, i costi e anche l'inquinamento ambientale. L'Abruzzo insieme all'Umbria e al Lazio sono regioni cuscinetto che impediscono con le loro infrastrutture non adeguate una completa realizzazione di una competitività che sia realmente tale, che sia realmente competitiva a livello comunitario. La sfida è portare all'attenzione del mondo politico, dell'opinione pubblica e la necessità di intervenire con le infrastrutture adeguate per rendere competitivo non solo queste attività, trasporto su ferro, su gomma e via acqua, ma addirittura rendere competitivo il Paese, perché il Paese, come l'Italia, è un Paese che produce e deve anche saper far arrivare i prodotti che trasforma sui mercati europei. Quali sono le strutture più importanti per l'Abruzzo per poter velocizzare le merci, soprattutto i trasporti e gli scambi? Noi siamo più favorevoli a un trasporto misto, gomma, rotaia, con i veicoli che viaggiano sui treni, non con il trasbordo delle merci. Le merci debbano partire dal luogo di produzione ed arrivare direttamente sul luogo di consumo, senza trasbordi. Se mai è il veicolo che va sul treno, in modo da inquinare meno durante i lunghi chilometri, faccio per esempio tratte di 600 o di 1000 chilometri, in questo modo anche l'autista riposa su treni appositi. Questo sarebbe, secondo me, il futuro del trasporto merci. E a Chieti sono stati presentati i contenuti del protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio, l'azienda di sviluppo, l'ASPO, l'azienda speciale dei porti di Ortone e Vasto e la managing authority del programma IPA Adriatic CBC. Vediamo. Il protocollo d'intesa per me ha due valenze estremamente importanti. Una inusuale, il fatto che nella pubblica amministrazione, qui parlo di Camera di Commercio in Regione Abruzzo, e due donne impegnate nel lavoro, si mettano assieme per portare avanti un protocollo d'intesa che ci lanci come Regione, all'interno di tutta l'area Adriatico Ionica, come soggetti di formazione per dare valore al nostro territorio, è un fatto per me importante. L'altro, ovviamente, è il contenuto del protocollo d'intesa che andiamo a sottoscrivere, che è legato appunto a portare delle conoscenze che si sono sviluppate sui territori, meglio nella struttura dell'IPA, all'interno degli altri territori. E questo, leggendolo in ottica imprenditoriale, significa che se siamo noi a portare formazione, siamo anche noi ad ottenere i maggiori risultati nella cooperazione transnazionale con i paesi dell'Adriatico Ionio. Il primo accordo che la managing authority del programma IPA Adriatic Cross Border, che ricordiamo essere il programma più importante dell'intera area Adriatico Ionica, che coinvolge ben otto stati, di cui quattro in preadesione, è estremamente significativo poiché tende ad un elemento estremamente, ancora più forte della strategia Adriatico Ionica che all'elemento della formazione, della disseminazione e della capitalizzazione dei risultati conseguiti dal programma IPA Adriatico. Quindi aspico davvero che sia il primo movens verso un dialogo concreto, non solo quindi con il territorio della regione Abruzzo, ma con l'intero forum delle Camere di Commercio dell'area Adriatico Ionica e con i paesi del trasfrontaliero Adriatico. Ora torniamo a parlare del decreto terremoto. Sono stati presentati emendamenti al decreto sisma alla Camera per destinare alle imprese il 5% dei fondi stanziati per la ricostruzione, per allungare a 48 mesi la rottamazione delle cartelle e per mantenere invariata la tassazione per i professionisti e le imprese in regime dei minimi che si insediano o hanno già sede nel cratere. A renderlo noto il deputato abruzzese di scelta civica Giulio Sottanelli, che ha aggiunto o consegnato alla Camera un sostanzioso pacchetto di emendamenti, la maggior parte dei quali condivisi e confirmati con i colleghi Tommaso Ginobili e Paolo Tancredi, per migliorare in fase di conversione il decreto numero 8 del Governo, che interviene con ulteriori misure a seguito del sisma e del maltempo che ha colpito la nostra regione e tutto il centro Italia. Gli emendamenti presentati raccolgono le richieste arrivate dal territorio, contenute in particolare dalla delibera dell'Assemblea dei Sindaci della provincia del 13 febbraio e le relative richieste del Presidente Renzo Di Sabatino e del Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. A intervenire è stato anche il deputato di area popolare Paolo Tancredi, che parla dell'emendamento al decreto terremoto contro lo spopolamento universitario a Teramo, risorsa per nuova casa dello studente. Il rischio spopolamento universitario a Teramo è estremamente attuale in considerazione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici. Per evitare ciò, ho presentato un emendamento al decreto terremoto in discussione alla Camera, che prevede una riserva di 9 milioni di euro sui fondi per l'edilizia universitaria destinata all'azienda per il diritto allo studio di Teramo, che in questo modo, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, potrebbe tempestivamente avviare il progetto di ristrutturazione della storica sede dell'Ateneo che diverrebbe la nuova casa dello studente, nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza e antisismici. E ora parliamo della delega conferita a Giorgio D'Ignazio, capogruppo di NCD in regione, che a pochi giorni dalla notizia cerca di fare alcune precisazioni anche sulla relativa accettazione. Vediamo. È storia vecchia quella che il governatore D'Alfonso abbia offerto al capogruppo di NCD in regione, Giorgio D'Ignazio, la delega alla ricostruzione. È stato immediato il pensiero che il consigliere regionale di centrodestra potesse diventare così una stampella al centro-sinistra. D'Ignazio però ha questa ambiguità politica non ci sta e fissa delle condizioni per poter accettare l'incarico. Non teme che l'incarico che le ha dato il presidente D'Alfonso la possa far diventare di fatto una stampella per il centro-sinistra? Ma infatti io non ho accettato l'incarico, o almeno ho detto che se è una valenza politica e quindi la speranza che io possa passare con il centro-sinistra, quindi non lo accetterei mai. Lo accetterei, eventualmente questo incarico coinvolgesse anche altri colleghi della minoranza, cioè che non sia io solo, ma anche altri, insieme. Sarebbe bello se tutti i consiglieri regionali della provincia di Teramo, eletti della provincia di Teramo, al di là dei colori politici, lavorassero per risolvere i problemi tutti insieme, non è che gli altri non stiano lavorando, quindi se questo può avere un valore per me va bene così. Secondo lei perché ha scelto proprio lei D'Alfonso? Il presidente è persona a volte particolare nel senso anche esuberante, c'è stato un momento di grossa collaborazione tra di noi e questo non smetterà di esserci, proprio perché l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo in un momento in cui c'è necessità di lavorare, a mio avviso di lavorare insieme. Indispettiti dalla questione delega di Ignazio, il gruppo di centro-destra alla regione è coordinato dell'ex governatore Gianni Chiodi. Io mi sono candidato alla mia vita sempre a sostegno di Gianni Chiodi, sempre, dal 1999, in due volte in cui si è candidato sindaco e poi nelle due candidature a presidente dell'Aggiunta regionale. Credo di aver dato tutto quello che avevo per Gianni e quindi qualche volta magari anche una parola di conforto non mi sarebbe dispiaciuta, ma questa è più una ricerca di attenzione più che una tirata d'orecchie, come dire che quando un figlio dice guarda che ci sono anch'io. In occasione dell'8 marzo la questura di Teramo è scesa in piazza con un camper per la sensibilizzazione sul caso della violenza di genere. La campagna si chiama Questo non è umore. Vediamo. Anno nero, il 2016 in provincia di Teramo per maltrattamenti alle donne. La polizia ha riscontrato 22 casi di percosse, 144 di minacce, 46 maltrattamenti in famiglia, 10 violenze sessuali, 87 lesioni dolose e 36 uomini denunciati per atti persecutori, senza parlare del sommerso. Contro tutto questo in occasione della festa della donna, la polizia di Stato ha deciso di scendere in piazza a Teramo con un camper aperto a chiunque voglia avere informazioni su come denunciare e sulle strutture di appoggio presenti sul territorio. E poi c'è il decalogo per quei comportamenti che devono essere considerati campanelli d'allarme di un atteggiamento che non è amore. Quale età hanno le donne che soprattutto denunciano? Ma l'età sono le più varie. Devo dire che nell'ultimo periodo c'è stato un grandissimo aumento di persone che anche alla luce dei progetti proposti dalla Polizia di Stato ed in particolar modo da questo progetto, sono state invogliate a sporgere denuncia. Noi siamo un ufficio mobile, quindi oggi siamo pronti a qualsiasi evenienza, c'è il personale specializzato della squadra mobile che si occupa di reati in materia di persecuzioni, in materia di reati in danno alla persona, pronto anche a ricevere eventuali denunce, eventuali segnalazioni da poi poter sviluppare successivamente. A Teramo sono due le strutture che offrono uno sportello d'ascolto per donne maltrattate, il centro antiviolenza provinciale La Fenice e l'associazione Alicod. Causa, terremoto, mancanza di fondi, risultano invece chiuse le due uniche case rifugio operative fino a poco tempo fa in provincia. Nel 2013 abbiamo iniziato a rispondere soprattutto alle chiamate da parte della Polizia per quanto riguardava lo stalker e non chi è vittima. Questo perché il principio è che noi possiamo anche togliere la vittima ma lo stalker troverà qualsiasi altra persona, dunque laddove è possibile anche cercare di aiutare questi uomini che mettono in atto comunque dei comportamenti disfunzionali. A chi è salito sul camper della Polizia in piazza Martiri a Teramo per la festa della donna sono stati mostrati video sulla violenza di genere e un elenco di cattivi comportamenti da saper riconoscere. Se ti ricatta, se minaccia te o i tuoi figli, se ti isola, omiglia, offende, se ti perseguita con mail o sms ossessivi, se ti prende con violenza quando non vuoi, se ti chiede l'ultimo appuntamento, ecco tutto questo non è amore. Iniziative dedicate alla donna in questa giornata anche a Pescara dove il gruppo terziario donna, sezione della Confcommercio, ha organizzato una mostra fotografica dedicata al tempo e alle donne. Vediamo. Si chiama terziario donna la sezione della Confcommercio che rappresenta le imprenditrici del commercio, del turismo e dei servizi, che in occasione dell'8 marzo presenta il primo concorso fotografico dedicato alle donne. Si intitola Il tempo e le donne e la riflessione posta sulla capacità di conciliare i suoi diversi ruoli dentro e fuori dalla famiglia. È aperto a tutti, quindi non c'è limite né di genere in questo caso né di territorialità perché è un concorso nazionale ed è rivolto a questo soggetto che praticamente è il tempo e le donne sulla conciliazione dei tempi della donna. Visto che abbiamo tantissime capacità e riusciamo veramente a spendere il nostro tempo facendo milioni di cose, può essere una buona idea quella di rappresentare i vari momenti della nostra giornata. Un messaggio in questa giornata è rivolto al tema della violenza di genere, fenomeno rimasto sommerso per decenni e che ora chiede l'attenzione di tutta la società con campagne di sensibilizzazione promosse da istituzioni e forze dell'ordine. Quello di non abbattersi mai e di avere coraggio perché abbiamo forse proprio come un elemento biologico in noi, quello di essere sempre propositivi e vitali e soprattutto in questo periodo che non è facile né dal punto di vista appunto del lavoro ma neanche appunto per quanto riguarda la violenza sulla donna, per noi è fondamentale portare avanti con determinazione ciò che veramente dobbiamo portare come realizzazione dei nostri percorsi, quindi questo. Iniziativa di sensibilizzazione oggi anche da parte del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli che questa mattina ha incontrato gli alunni della scuola d'annunzio di Colle Corvino proprio per parlare loro del significato di questa giornata. Vediamo. Ho scelto di dedicare la giornata della festa della donna all'incontro con i ragazzi perché io ritengo che in questa giornata noi dobbiamo puntare al futuro e per puntare al futuro la scuola è fondamentale e i ragazzi sono fondamentali, il messaggio che noi diamo ai ragazzi è il messaggio che noi diamo per il futuro. Io credo che il mio compito istituzionale sia anche quello di stare sul territorio, vedere quali sono i problemi e quali sono le opportunità da cogliere e questa è la mia giornata. Questa tappa fa seguito a quell'importante vista appenne l'apertura di quel centro antiviolenza? Mi fa piacere che in quest'area ci sia questa sensibilità. Io ho detto l'altro giorno appenne questi sono territori nei quali la violenza della natura, della calamità naturale ha colpito molto e ha fatto anche delle vittime. Io mi auguro che questa azione di prevenzione e anche l'apertura di quello sportello antiviolenza possa far sì che non ci siano vittime anche per la violenza dell'uomo. Preside, oggi nella sua scuola un importante incontro sull'antiviolenza, soprattutto oggi che è l'8 marzo, festa della donna. La festa dell'8 marzo secondo me va reinterpretata alla luce di quelle che sono le evidenze che la cronaca e la statistica ci pone sotto gli occhi continuamente. Quindi non più un senso così tradizionale del festeggiare la donna, ma un rivisitare quello che è il suo ruolo attualmente nella società e come il suo ruolo si deve porre in relazione a quello della figura maschile. I ragazzi devono comprendere da subito quelle che sono alcune manifestazioni che possono connotarsi come manifestazioni violente a partire già dal semplice linguaggio, per comprendere come il rispetto passi dal linguaggio alle azioni quotidiane. Solo facendo così possiamo stimolare i ragazzi al rispetto reciproco e quindi al rispetto delle figure femminili. Ed ora parliamo del progetto case. Il comune apre agli anziani di 80 anni e gli over a 75 con invalidità che possono restare negli alloggi del piano case se presenteranno regolare domanda. Così una delibera di giunta presentata dall'assessore Penini. Il servizio di Daniela Rosone. Vediamo. Le persone anziane di età superiore agli 80 anni oppure 75 in caso di invalidità del 100% potranno restare negli alloggi del progetto case messi a disposizione dal comune dell'Aquila anche laddove tornasse agibile l'abitazione danneggiata dal sisma, ovviamente su richiesta e corresponsione del canone di locazione previsto. L'ho stabilito l'aggiunta comunale dell'Aquila accogliendo una proposta deliberativa presentata dall'assessore all'assistenza alla popolazione Fabio Pelini. Abbiamo adottato questa deliberazione in ragione del fatto che molti anziani hanno manifestato la volontà di restare nell'alloggio del progetto case, ha dichiarato l'assessore Fabio Pelini in considerazione della socialità che in questi anni hanno avuto modo di ricrearsi anche dal fatto che non tutte le abitazioni ristrutturate sono accessibili per persone anziane in quanto per esempio sprovviste di ascensore. Per questa ragione ha spiegato Pelini daremo la possibilità di restare nell'alloggio agli anziani di età superiore agli 80 anni oppure agli ultra 75 anni con invalidità del 100%. L'autorizzazione verrà accordata previa richiesta a fronte del pagamento ovviamente del canone di locazione come stabilito sulla base della grandezza dell'alloggio del quartiere dove quest'ultimo è ubicato. Non sarà possibile ha detto anche l'assessore cedere l'abitazione in subaffitto, in questo senso verranno effettuati anche dei controlli per verificare come nei casi di cambio di residenza l'effettiva permanenza del domicilio. Alla Camera di Commercio di Teramo è attivo da oggi il servizio che si chiama Eccellenza in Digitale, un progetto promosso dal colosso Google in collaborazione con Union Camere. L'iniziativa prevede seminari destinati alle aziende e il progetto è per le aziende 4.0. Raccontare la cultura dell'innovazione attraverso le novità dell'industria 4.0, aiutare le aziende a sviluppare competenze digitali e avviare un dialogo sulle opportunità economiche della rete, questi gli obiettivi della nuova edizione di Eccellenza in Digitale, il progetto promosso da Google in collaborazione con Union Camere al Via per la terza edizione 2017. Il servizio è attivo da oggi presso la Camera di Commercio di Teramo e si rivolge a tutte le imprese con sede legale nella provincia. Seminari formativi per far diventare le aziende 4.0? Sì, abbiamo come Canale di Commercio promosso un progetto nazionale, partirà in 83 province del nostro territorio, partirà qui a Teramo questo progetto di digitalizzazione delle nostre imprese perché pensiamo che attraverso internet si possono aprire mercati nuovi di aiuto e sostegno a un territorio che oggi in questa provincia sta particolarmente soffrendo. Le Camere hanno messo a disposizione dei tutor molto esperti, l'altoressa della Monica che è qui a fianco a me e sarà a disposizione per gli imprenditori che vorranno apprendere in maniera più professionale questa cosa. Seminari gratuiti? Sì, sono seminari gratuiti, seminari a disposizione per le imprese e chi appunto vuole crescere, svilupparsi e qualificarsi in un mercato globale. Le ricerche su Google legate al Made in Italy per esempio crescono a doppia cifra ogni anno eppure l'Italia utilizza ancora il 10% del suo potenziale digitale. Cosa insegnerai a questi i tuoi futuri allievi? I temi principali di questi seminari saranno Industria 4.0 e Cloud, e-commerce e analisi dei dati e più in generale la presenza online, quindi con un focus sui social network e le modalità di pubblicità online. Secondo uno studio di Doxa Digital e Google 2, a crescere del livello di maturità digitale la percentuale di imprese che fanno export aumenta. Il 39% del fatturato da export infatti delle medie imprese attive online è realizzato proprio grazie a internet. Dipendenti RSA, Monte Reale a rischio, sono gli effetti collaterali del terremoto, la burocrazia per ricollocarli all'exompi dell'Aquila è troppo lunga e a breve ci sarà un nuovo incontro con Asla e sindacati. Intanto i lavoratori si dicono pronti a uno sciopero, vediamo. Dipendenti della RSA di Monte Reale in cassa integrazione in attesa del trasferimento all'exompi. Anche questi sono effetti del terremoto. Cassa integrazione a zero ore dal 1 febbraio fino al 31 marzo prossimo per i dipendenti della cooperativa Quadrifoglio. Sono dipendenti che lavorano nella struttura sanitaria di Monte Reale, struttura sanitaria assistita, RSA, chiusa dopo le scosse di terremoto del 18 gennaio. I pazienti sono stati trasferiti tutti in altre residenze ospedaliere. Non è ancora completato, infatti, un iter burocratico che sta apparendo molto lungo, che consentirebbe invece all'exompi, la struttura di assistenza aquilana del Comune dell'Aquila, di ospitare tutti e 35 pazienti di Monte Reale, con il conseguente reintro dei lavoratori della COP Quadrifoglio. La proposta di utilizzare l'exompi era emersa in una riunione del 26 gennaio scorso, tra i vertici della ASL, i rappresentanti del Comune dell'Aquila e delle altre istituzioni, le sigle sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, avanzata dal capogruppo del PD al Consiglio Comunale Stefano Palumbo, per conto del Comune dell'Aquila, proprio per garantire la continuità lavorativa ed evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali. Lungaggini e procedure di verifica delle normative ASL, che però rischiano di mettere in seria difficoltà tutti i dipendenti. Intanto, il prossimo 13 marzo, ci sarà una nuova riunione con la ASL e i rappresentanti delle istituzioni. Sul tavolo ci sarà proprio la vicenda dello spostamento dei pazienti, una ventina, ci sono i posti all'exompi in teoria già disponibili, questi dovrebbero consentire l'ampliamento dei posti letto fino a coprire quelli 35 necessari. I lavoratori sono pronti anche ad entrare in sciopero se non ci saranno delle risposte chiare. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la serie A doppia seduta oggi per il Pescara che continua a preparare il match di domenica prossima con l'Udinese, oggi Alberto Girardino si è sottoposto a Roma a un intervento chirurgico al ginocchio, per lui stagione praticamente finita, imminente la recessione del contratto e dopo la seduta odierna pomeridiana abbiamo ascoltato anche il portiere Vincenzo Fiorillo. Vincenzo Fiorillo come ci si sente ad essere in una stagione sempre il secondo? Beh, onestamente non è piacevole, sono sincero, però non posso fare altro che allenarmi bene, sperare che arrivi qualche occasione, fino alla fine cercherò di fare quello che ho fatto in allenamento, di più non posso fare. Mi farebbe piacere sempre giocare, dico la verità, con il Pescara in serie A, soprattutto per me sarebbe un sogno, non sono ancora riuscito a realizzare, quindi fino alla fine aspetto e spero. Quale spiegazione si dà Vincenzo Fiorillo del fatto di non essere ancora stato mai impiegato nel Pescara sia da Oddo che da Zeeman? Probabilmente non basta quello che sto facendo, non lo so, avrei voluto avere la possibilità di, avrei voluto avere qualche chance per potermi almeno giocare con le mie mani, non è mai arrivata un'occasione per me, quindi adesso mancano ancora 11 partite, può essere che arrivi come no, ma onestamente dentro sì, non sono stato bene. Sembra una banalità, però è vero che la categoria fa la differenza, nel senso quello che magari l'anno scorso poteva venire con semplicità, quest'anno si è pagato in termini di fisicità, secondo me è un aspetto che un po' ci ha penalizzato, guardando da fuori, da tutte queste partite che sono stato in panchina, certe volte ho notato magari un gap fisico con le squadre che anche se poi il livello tecnico durante il corso delle partite si equivaleva o in certi tratti il Pescara faceva bene, ci sono grandi squadre che poi sul piano fisico a volte ti sovrastano e non intendo di condizione atletica, anche proprio di chili specifici e centimetri, quello che mi è balzato all'occhio in tante partite da fuori. Il Tg6 finisce qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14, grazie per essere stati con noi.